E' il Capitolino Tigre di Via Fonte Nuova a Roma che si aggiudica il premio miglior filiale 2016. Professionalità e disponibilità tra i principali fattori di successo. Una mansione speciale va soprattutto all'azienda Magazzini Gabrielli, che grazie all'investimento nella formazione del personale e nel continuo aggiornamento, ha contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Il direttore Domenico Manili condivide la vittoria e ringrazia tutti i collaboratori preziosi alleati per l'ambito premio, augurandosi in futuro di continuare con la stessa passione e dedizione. Per un futuro io penso di continuare così perché sono un po' di anni che seguendo questa linea abbiamo raggiunto gli obiettivi e speriamo di fare anche cose nuove.